30 commercianti si sono uniti in un progetto che si va ad inserire nell'ambito del Natale Più del Comune della Proloquo quindi fervono gli ultimi preparativi per addobbare e illuminare a festa anche il lungomare del Lido Sì, è ormai un paio di settimane che stiamo lavorando tutti i giorni cerchiamo di essere tutti presenti nei momenti liberi dell'attività anche quell'oretto di orette ognuno e sì, è quasi tutto pronto per sabato Ecco, quindi quando si partirà ufficialmente? Da sabato sarà tutto illuminato, da sabato pomeriggio Quali sono le iniziative previste? Ma abbiamo steso dei tappeti rossi, abbiamo allestito con degli alberi natalizi abbiamo creato dei piccoli punti nevicata all'inizio e alla fine del viale e ci saranno delle teste rotanti a creare un po' di atmosfera luminosa e un gonfiabile di 5-6 metri per i più piccoli per fare degli scatti E si ripeteranno queste iniziative tutti i fini settimana? Saremo sempre attivi, ovviamente alcuni elementi saranno più per il weekend come le teste rotanti o la musica a volumi un pelo più alta Fino a quando? Circa il 10 gennaio Quindi vi aspettiamo da sabato, veniteci a trovare nelle nostre attività e in tutta la camminata del Lido